Il mondo economico cremonese serra i ranghi per cercare di affrontare la grave crisi generata dall'emergenza coronavirus. Questa mattina in Camera di Commercio si è svolta la riunione delle categorie economiche con i parlamentari e le istituzioni locali sulle misure da intraprendere per arginare le ripercussioni negative dell'epidemia da coronavirus sulle imprese. La politica presente da destra a sinistra con i parlamentari Comaroli, Toninelli e Pizzetti. So di molte aziende che pur non essendo interessate dalla zona rossa ma che addirittura stanno perdendo tantissimi ordini, hanno magari ordinanze di chiusura perché magari è capitato di avere un caso nel reparto amministrativo ma chiudono l'azienda e queste cose ovviamente ci crea un notevole danno. Pensiamo sia alle grandi aziende ma anche ai piccoli imprenditori, ai piccoli artigiani, alle attività commerciali che abbiamo. Questa crisi economica è grave. È indubbio che i rischi di recessione o di danno economico direttamente conseguenti al coronavirus ci siano e siano evidenti. Sono stati fatti degli errori, va bene non fa niente andiamo avanti. Ci vuole molta unità in questo senso, in questo momento. Non bisogna creare panico. La mascherina purtroppo di Fontana è stato un grosso errore, le parole di Zaia sono state un grosso errore. Ma certamente dobbiamo stare uniti. Voi sapete che venerdì sera è stato approvato un secondo decreto, salvo intese. Primo decreto per limitare e bloccare la diffusione del coronavirus e aiutare i comuni della zona rossa. Il secondo decreto per aiutare l'economia italiana è quello che farò di tutto perché avvenga. La zona gialla sia aiutata ancora un po' di più, un po' di più considerato che è quella che ha avuto le limitazioni e le restrizioni maggiori. Ci sarà un terzo decreto, come annunciato già dal Presidente del Consiglio, che invece avrà una visione e valutazione più strutturata, che dovrà avere un'approvazione in Parlamento perché andrà oltre lo sforamento del deficit. C'è un'interlocuzione con l'Unione Europea, ma l'Italia non può essere un paese che subisca e che subirà un isolamento, un danno economico in conseguenza del coronavirus. È importante che un documento venga fatto già nelle prossime ore e possa poi essere affinato, ma che tenga conto della specificità di Cremona e della sua provincia. Il problema è che i brand locali non sono più un punto di attrazione ma un punto di respingimento. Quindi occorrono misure sul piano economico e del sostegno che partano da questo presupporto. C'erano i problemi locali-locali, il commercio o una serie di altre situazioni. Ma dal punto di vista della dimensione macro del sistema di imprese, il problema fondamentale che abbiamo è quello che l'ho detto. Per cui occorre che gli interventi che devono essere messi in campo a livello governativo e concertati con l'Unione Europea tengono conto di questa assoluta necessità perché nel contesto generale italiano c'è un contesto lombardo e poi c'è un contesto specifico di queste aree. Ora il marchio Cremona che è stato un marchio potente in alcune situazioni, sull'agricoltura, sul violino eccetera, in questa condizione rischia di essere un marchio negativo per cui bisogna reinvestire su questo.